Tanto tempo fa, in un regno lontano angolo dell'universo, un pianeta color ametista chiamato Zafiria. Su questo pianeta viveva una civiltà avanzata di creature simili a libellule, note per la loro saggezza e la loro tecnologia all'avanguardia. Un giorno, una giovane libellula di nome Lyra sognò di esplorare gli spazi sconosciuti oltre il suo pianeta. Con l'aiuto degli anziani, costruì una navicella spaziale splendente, capace di viaggiare più velocemente della luce. Lyra partì per un'avventura cosmica, promettendo di portare indietro nuove conoscenze e amicizie interstellari lungo il cammino, incontrò pianeti danzanti, stelle che cantavano e comete giocose. Ogni nuova scoperta arricchiva il suo spirito e la sua mente, insegnandole il valore dell'esplorazione e dell'apprendimento continuo. Alla fine, Lyra tornò a Zafiria, portando con sé storie incredibili e amicizie che superavano i confini del suo mondo, dimostrando che l'universo era un luogo di meraviglie senza limiti.